La Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura realizzano anche quest'anno il progetto Photowalk che lo scorso anno ha ottenuto ottimi risultati, superando complessivamente i 147 milioni di contivisioni sui social network. La proposta che noi facciamo ai turisti, ma anche ai marchigiani, a cui piace conoscere meglio la propria regione, di venire, in questo caso a Fano, per fare un'esperienza della città e poi raccontarla nel profilo social che hanno. Quest'anno l'iniziativa, a volta a sviluppare nuove forme di promozione turistica attraverso gli strumenti digitali degli utenti, prevede sette tappe in sette straordinarie località delle Marche, una passeggiata fotografica armati di tablet o telefonino per immortalare le bellezze del nostro territorio. Uno che esplorerà il centro storico, le eccellenze monumentali, ma non solo, anche bar, esercizi commerciali che attraverso la fotografia possono essere raccontati dall'occhio soggettivo di centinaia di persone che hanno appunto il compito di scoprire e di dare originalità a questo racconto, ma anche poi la zona Portomare, quindi le due eccellenze che raccontano meglio la città di Fano. Domenica 28 maggio si parte dunque alla scoperta di Fano e la sua storia, tra mare e colline a suon di click, l'arco di Augusto e le sue mura, i misteri della Fano sotterranea, la tradizione marinara e immancabili il brodetto e la moretta, le specialità gastronomiche per eccellenza e per le foto più belle una gradevole sorpresa. Il primo premio è un soggiorno turistico a Fano, un fine settimana in un albergo, ho messo a disposizione alberghi consorziati, dei ristoratori poi ci daranno per il secondo premio una bella cena per due persone e poi ci saranno vini e prodotti anogastronomici offerti in un cesto per il terzo classificato come in genere si fa.